Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, come vedi sulla mappa davanti a te, a partire da giovedì 18 aprile 2024, forti temporali si abbatteranno sull'Italia e daranno luogo a pioggia. La pioggia sarà accompagnata da grandine, forti venti e nevicate nell'estremo nord, in particolare sulle Alpi e nelle zone prealpine. A partire da giovedì piogge molto forti al nord e al centro, per poi iniziare da venerdì 19 aprile, il maltempo si dirigerà verso il sud Italia con abbondanti precipitazioni, piogge con nevicate sugli altipiani. Pertanto, giovedì e venerdì 18 e 19 aprile in Italia si prevede tempo molto brutto con caduta di pioggia e neve e forti venti con tempo molto freddo e temperature sotto lo zero in alcune zone con caduta di pioggia e neve. Come ho detto, e ciò è dovuto all'arrivo di aria molto fredda in Italia e a maggiori dettagli riguardanti questo maltempo e le regioni nello specifico, cercheremo di informarvi in merito più avanti e nei prossimi video.